ho sentito a gridare aiuto 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 io pensavo che ci fossero i ladri ho aperto il balcone e c'era lingue di fuoco ma enormi enormi che venivano fuori da sotto il coso la tettoia e lui che urlava in mezzo al coso al giardino attimi di terrore ieri sera verso le 22 30 a viadene di monte belluna un vasto incendio accolto di sorpresa una giovane coppia che abita in questa casa in via san gottardo l'uomo si trovava in bagno al piano terra mentre la compagna riposava nella camera da letto al secondo piano vedendo il fumo mentre era in doccia l'uomo è uscito in giardino per vedere da dove proveniva sì sì si era chiuso fuori casa e lei era chiusa dentro e non riusciva entrare per farlo uscire continuava a tirar pugni sulla porta sulle finestre terrore allo stato puro il 29enne per il panico si è chiuso fuori di casa non potendo dare una mano alla sua fidanzata ha iniziato ad urlare per cercare di svegliarla e metterla in allarme i vicini di casa sono subito accorsi per dare aiuto ma l'incendio era già indomabile in pochi minuti il fuoco ha divorato tutto il portico esterno e i due piani dell'edificio la giovane 33enne chiusa in camera da letto in attesa dei soccorsi ha dovuto prendere in poco tempo una drastica decisione pur di mettersi in salvo il fumo è nato su dappertutto lei e si è buttata giù dal belcone la donna una giovane commessa dopo la caduta da tre metri e mezzo è stata soccorsa dal personale del suo 118 e successivamente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di montebelluna per le cure del caso era un po ustionata tutta nera bruciata un po i capelli è rotta una vertebra e anche un calcagno dovrebbe essere rotta sul posto sono giunti sei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco tra autobotti ed autoscala 18 gli operatori impegnati fino alle 6 di stamattina la casa ha subito importanti danni questa mattina sono proseguiti gli accertamenti da parte dell'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che con i carabinieri di montebelluna stanno indagando per capire cosa abbia causato l'incendio per ora non si esclude nessuna ipotesi l'abitazione inagibile è stata apposta sotto sequestro i due finanziati si dovevano sposare l'anno scorso causa covid avevano apposticipato le nozze il prossimo maggio dovevano sposarsi il primo maggio adesso qua adesso cosa fanno casa è ridotta tutte in genere porrete